e ci troviamo a Loli Day Inn per intervistare Raffaella Fico, tra pochi minuti saremo insieme con lei. Buongiorno Raffaella. Ciao, buongiorno a te. Come stai? Bene, bene, grazie. Come mai qui a Ravenna? Beh, perché in pratica stiamo registrando il nuovo programma di Italia 1, che andrà in onda da lunedì 8 luglio alle 21.30, da giovedì, perdonami, 8 luglio, scusami, alle 21.10, 21.30, non è ancora definito l'orario, comunque è una prima serata, il cui nome è i mitici 80. Alla conduzione ci sarà Sabrina Salerno e io farò parte del programma come inviata e oggi appunto ci troviamo a Ravenna perché sarò un'inviata che, diciamo, gira un po' per le spiagge d'Italia, un po' per le discoteche d'Italia e cercherò di scoprire le differenze tra i giovani degli anni 80 e quelli di oggi, sul sesso. Ah, interesse. Beh, ovviamente, sui dubbi che possono avere, sulle curiosità, se comunque conoscono tutto. Negli anni 80 si informavano comunque le ragazze o i ragazzi scrivevano, cioè per togliersi comunque dei dubbi. Oggigiorno la nostra curiosità è quella di sapere se i ragazzi, prima di tutto, come si informano, che sicuramente è una cosa importante, se sono a conoscenza comunque delle precauzioni che vanno usate, dei contesti, di tante situazioni in generale, in generale e come si informano soprattutto loro e se hanno dei dubbi, per l'appunto. Direi una rubrica molto importante per i giovani. Sì, questa rubrica prende il nome di Foglia di Fico e comunque è una rubrica molto divertente. Poi abbracciamo tutta la fascia degli adolescenti e è divertente comunque l'impatto con loro. Quindi sarà un impegno importante da settembre in poi oppure inizia proprio dall'estate? Se ci seguiremo dall'estate la trasmissione finirà? Sì, la trasmissione dura per tutto il mese di luglio, in pratica viene trasmessa i quattro giovedì di luglio. Ok, ok. I tuoi impegni invece per l'inverno ti rivediamo ancora con Papi in tv? Oh, che domanda, guarda. Sinceramente per ora non si sa ancora niente. Sicuramente ci sono delle proposte che poi uno, sai, man mano valuta e niente. Lo scopriremo tutti insieme poi successivamente. E la tua estate, Raffaella? Beh, la mia estate? Che bella domanda. Sicuramente un po' di relax nel mese di agosto, quello non mancherà sicuramente. e per ora invece continuo a lavorare comunque in giro per l'Italia, non solo con il nuovo programma di Italia 1, i Mitici 80, ma anche con le serate, gli eventi ed altre cose.